Anche a Milano adesso non fate cambiare qualcosa, c'è tanti giocatori giovani e così anche loro devono imparare tanto. È un momento difficile per Milano, speriamo anche loro faranno bene. Adesso devo pensare a posto di Tassino sinistro, anche come ha fatto a Milano, giochiamo un po' diverso come Milano, anche io devo imparare come gioca la squadra, in questo momento lavoriamo bene anche sull'allenamento e speriamo che questi giorni miglioriamo. Quando sono arrivato a Milano c'è una squadra fortissima, con Ibrahimovic, con Thiago, anche Gattuso, Pirlo, tutti ero qui. Avevo 24 anni, ero giovane e per questo devo imparare tanto perché come giochiamo in Olanda e in Italia è diverso. Ma sono contento di cosa ho fatto nel Milan quasi tre anni. Adesso io porto anche l'esperienza di cosa avevo nel Milan. Vengo con questo qua nella Roma e anche qua voglio fare bene. Sono una squadra molto buona. Penso anche una squadra lavorata quasi due o tre anni insieme e anche questo conta tanto. Anche mi vedo come gioca la squadra, tutti conoscono cosa dobbiamo fare e questo è importante per la squadra. Siamo uniti e speriamo che questo campionato facciamo bene. Sì, ho chiesto per fare un contratto così perché anche io sono venuto qua libero. Così devo dimostrare anche nella Roma che sono un buon giocatore e per me voglio stare anche qua tanti anni. Così devo fare bene quest'anno e poi vediamo cosa sia successo il prossimo anno. Anche quest'anno giochiamo tante partite. Abbiamo bisogno di tutti. Anche lo so, anche io lo so, c'è tanti buoni giocatori anche sul mio posto. Ma cosa ho detto prima, abbiamo bisogno di tutto e tutti possiamo fare bene fino alla fine. Per questo momento sono venuto qua per fare questo, non solo per io devo giocare, giocare, no. Siamo i 25-30, giochiamo il campionato, anche le Champions e poi anche la Coppa Italia. Cosa ho detto prima, siamo una squadra e abbiamo bisogno di tutto, anche io devo giocare, ma dobbiamo lavorare bene insieme. Per me il mister è un buon allenatore, è tranquillo, ma anche lavora sempre per vincere. Dice anche questo sempre, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. E' vero, sono in attaccante, sono più bene come difensore, ma anche per questo dobbiamo imparare. Difendiamo insieme, così anche c'è difensore centrale o una centrocampista, c'è sempre in campo per aiutare. Sì, ho parlato con Kevin, anche quando è successo l'anno scorso, l'infortunato contro Napoli, tutti in Olanda, non è triste, ma per un giocatore come lui, anche per la squadra in Olanda, sì, non fa bene. Adesso speriamo che lui torna più forte. Penso manca ancora tre mesi per tornare alla squadra, non siamo con lui sempre, speriamo di farlo bene e torna presto subito. No, l'Olanda è fatta bene, molto bene, con una squadra molto giovane. È arrivato al terzo posto, penso nessuno in Olanda ha pensato che la squadra può fare questo. Per questo tutti sono contenti, anche nel futuro abbiamo adesso giocatori, sì, per fare bene. È differente anche in allenamento, il mister Rudy Garcia fa tanto con la palla, sempre in movimento, voglio giocare un gioco in avanti e con Allegri ero tanto in tattico, come dobbiamo muovere, come dobbiamo aiutare tutti in campo. Per me questo è una grande vivienza. Per me questo è una grande vivienza.